Luca, è andata bene, è andata male, è andata come aspettavi, cosa puoi raccontare di questa gara? Sicuramente è importante che sistemi la qualifica perché partire più avanti significherebbe essere fuori dai guai. Il primo stint sono stato un po' preso nei duelli con altri piloti e più delle volte ho preso un po' di ruotate e ho perso anche posizioni. In più, in gran parte dello stint sono stato fermo, rallentato dietro a Mortara che aveva una macchina danneggiata e ha compromesso la gara. Da lì in poi, nella seconda parte di gara andavo forte, mi trovavo molto a mio agio con la seconda macchina e ho cercato di fare del mio meglio. I tempi erano buoni, però poi il distacco della Top 10 era troppo elevato. Il dodicesimo non è certamente quello che avrei voluto, ma se non altro con la seconda macchina, nella seconda parte di gara, i tempi e la competitività c'era. È un campionato strano, sto imparando ancora un sacco di cose, ma è difficile per adesso ancora mettere tutto insieme. Adesso, tra un mesetto, giorno in più e giorno in meno, si corre a casa. Questo mesetto sarà particolare per te, questa attesa, o sarà una in più come tutte le altre varie? Sicuramente quando sarò là ci sarà un'attenzione diversa, sicuramente, da parte della gente che è lì. Il mio desiderio è quello di non deludere i tifosi, perché l'aspettativa comunque è quella che io faccia bene, che riesca a fare dei bei punti, fare una bella gara e quello che voglio fare è quello che sicuramente lo voglio fare sia per me che per la gente che crede che io lo possa davvero fare. Quindi ci sarà ancora un po' più di concentrazione, un po' più di tensione, cercherò di prepararla ancora meglio se è possibile e non lasciare nulla al caso. Grazie, in bocca al lupo e ci vediamo a Roma. Crepi, grazie mille. E dietro di me vedete che c'è spettacolo, siamo ancora in griglia di partenza, nonostante questo sia l'ultimo blocco di questa puntata di Electric Motor News. Noi vi diamo appuntamento la settimana prossima con altre novità del mondo dei veicoli elettrici, con un ringraziamento a Daniele Drago che ci ha seguito qui al Punta dell'Est Eprix e la prossima settimana saremo dagli studi di Trezzo sull'Ada. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.